Unità 1, unità 3, in direzione est sulla 18, 2 miglia ovest dell'interstatale 85, siamo sulle frequenze della contea di Linden. Ricevuto, siamo a 2 minuti a sud dell'incrocio con la 18. Centrale, unità 1 e unità 3, ci troviamo sul posto. Siamo sulla 18, l'incrocio con l'interstatale, da 10 notizie. I sospetti stanno tornando sulla 18, direzione sud. La vecchia strada francese è chiusa, quindi dovranno tornare sulla 18. Stanno inseguendo quegli idioti su e giù per ogni strada secondaria. Magari finiremo in uno di quei programmi tipo i più folli inseguimenti della polizia. Secondo me Leon dovresti restare concentrato. Assicurati di avere un colpo in canna e di togliere la sicura. Sarebbe figo finire in uno di quei programmi. Oh cazzo. Arma, arma, arma! Arma, arma, arma! Serei giù la bista! Chiachi! Chiachi? Sto bene! Quando ti ha colpito mi sono spaventato a morte. Anche io. Quel bastardo mi ha sparato. Riesci a crederci? Ti ha colpito sul giubbotto? Sì. Shane, non devi mai dire a Lori che mi hanno sparato. Mai! Avviciniamoci! No, 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 no. Avviciniamoci! No, 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 no. È ferito! Leon! Leon, fa venire subito un'ambulanza! Degli che c'è un nostro uomo a terra! Ok! Shhh, shh, shh, sono qui, guardami Rick, resta con me, ascoltami! Shhh, shh, shh, ok, mi senti? Resta con me, resta con me, ci sono qua io, Rick. Shhh, shh, shh, eccomi, mi senti? Shhh, shh, shh, ok, ok, sono qui, resta con me, mi senti? Ok? Shhh, shh, shh, eccomi, sono qui. Shhh, shh, 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 shh Grazie a tutti